Dopo che Matteo Renzi ha rilasciato questa intervista molto visibile venerdì scorso al Corriere della Sera nella quale diceva che il nostro destino secondo lui è quello di essere parte della coalizione di centrosinistra, anch'io ho fatto un post su Facebook per dire sostanzialmente due cose. Una è che politicamente per quanto riguarda la linea e la collocazione sono assolutamente d'accordo con lui, il secondo punto è che penso però che in questo cammino noi dovremmo fare anche una profonda riflessione sulla nostra forma partito, sulla nostra organizzazione, su come abbiamo costruito la nostra comunità, sulla nostra comunicazione, insomma non soltanto sulla strategia ma anche sulla vita quotidiana e sulla tattica. Ma di questo parleremo un'altra volta perché oggi voglio concentrarmi di più sulla linea politica, sulla collocazione di Italia Viva nella coalizione di centrosinistra ed è dunque di questo che voglio parlarvi oggi che è il 23 luglio 2024, io sono Ivan Scalfarotto, questa è la versione di Ivan e noi andiamo a incominciare. Io sono Ivan Scalfarotto e questa è la versione di Ivan, una storia al giorno, da lunedì al venerdì, rigorosamente dal mio punto di vista. Se nell'episodio di ieri di questo podcast non ho commentato l'intervista di Matteo Renzi, quella uscita venerdì sul Corriere della Sera a firma di Maria Teresa Meli, quella con la quale Renzi ha prospettato la sua linea per l'Assemblea Nazionale del 28 settembre, quella che vede Italia Viva diventare più stabilmente parte della coalizione di centrosinistra, ebbene se non ho commentato quell'intervista è per due ragioni principali. La prima è che la decisione di Biden presa domenica di ritirarsi dalla corsa alla Casa Bianca, di rinunciare alla candidatura a un secondo mandato come Presidente degli Stati Uniti, mi sembrava francamente una decisione enorme, storica, che davvero non si poteva non commentare. Il secondo motivo è che in realtà la decisione, l'annuncio di Matteo Renzi è probabilmente arrivato non propriamente inaspettato a coloro che ascoltano questo podcast. Diciamo così, io mi sono spesso espresso sui nostri rapporti col centrodestra e col centrosinistra, e anche sulla mia idea di terzietà e di equidistanza dagli altri due poli. Ho detto spesso che mi sento quantitativamente equidistante tra la destra e la sinistra, ma che qualitativamente invece non c'è propriamente un'equidistanza. Che cosa volevo dire e che cosa voglio dire? Intendo dire che se su taluni punti posso essere lontanissimo dal centrosinistra, e penso per esempio al tema della giustizia, penso per esempio al tema del lavoro, penso per esempio a certe questioni di politica estera come l'Ucraina, se invece discutiamo più complessivamente della visione del mondo e quindi della qualità, non della quantità, della distanza, è evidente che io sono un uomo di centrosinistra, sono un progressista, ho quella storia, vengo da quella vicenda. Per cui costretto a scegliere, come si dice con la pistola alla tempia, per me non c'è discussione, io tra chi fa fatica a ripudiare radici con il ventennio fascista, con chi ha una visione fondamentalmente sovranista, con chi ha anche dei diritti delle persone, una visione opposta alla mia, come il nostro centrodestra e in particolare chi lo guida, è chiaro che appunto costretto a scegliere, poi scelgo il centrosinistra. E' un po' quello che è successo anche ai francesi, se ci pensate, nel momento in cui c'era il rischio che il Rassemblement National vincesse, alla fine anche i macroniani, anche i liberal democratici hanno deciso di votare al secondo turno per la sinistra, anche per candidati come quelli di Mélenchon, che quantitativamente appunto sono equidistanti da noi, come può esserlo Marine Le Pen. Però se poi andiamo a vedere qual è proprio l'idea del mondo, la concezione di vita che ci unisce, io devo dire che come ha deciso Macron avrei fatto la stessa cosa, per impedire l'accesso dell'estrema destra alle principali cariche repubblicane, si fa il patto anche con persone che la pensano diversamente da noi, su tutta una serie di questioni, ma che sulla visione del mondo, sui valori, sono sicuramente non incompatibili con noi, come lo è chi ha costruito la propria militanza politica su una ideologia di violenza e di sopraffazione, che è quella fascista e dell'estrema destra. C'è un bel video che gira online del professor Barbero, lo storico, che dice comunismo e fascismo furono due totalitarismi e come tali due regimi e due ideologie violente, ma la differenza tra il fascismo e il comunismo sta nel fatto che mentre il comunismo prometteva un'idea di uguaglianza, un'idea di emancipazione, un'idea di fondamentale coinvolgimento nella società degli ultimi e degli esclusi, l'ideologia fascista nasceva proprio dall'idea della sopraffazione, della violenza, della legge del più forte, dell'eliminazione anche fisica del più debole, per cui se poi i regimi comunisti sono stati regimi che hanno tradito quelle promesse, questa colpa va addebitata ai leader che hanno creato questa torsione, che hanno abbandonato quelle promesse di uguaglianza per trasformarle in regimi violenti, sanguinari, totalitari e antidemocratici, mentre invece il fascismo anche i militanti di base lo hanno abbracciato per quello che era e quando si è manifestato, quando è andato al potere, non ha tradito una promessa, ha eseguito ciò che aveva detto avrebbe fatto, per cui questa differenza non si può assolutamente cancellare, dice Barbero, e francamente io mi sento d'accordo con lui e quindi quello che credo che noi dobbiamo fare, soprattutto in considerazione del fatto che siamo usciti da un'elezione europea fatta con un sistema proporzionale, quindi in un sistema nel quale di fatto si corre ciascuno per sé, Dio per tutti, dove l'elettore ha la massima libertà, ecco anche in queste elezioni europee così proporzionali si è manifestata una tendenza fortemente bipolare in Italia, con un voto che si è polarizzato su PD e Fratelli d'Italia, quindi preparandoci a un'elezione dove invece il sistema elettorale ti costringe a una coalizione perché altrimenti ti penalizza, che cosa bisogna fare? Restare terzi e quindi essere di fatto marginali, essere certamente fuori da ogni ipotesi di governo perché si resta fare fondamentalmente testimonianza o cercare di attrezzarsi per andare al governo stando dentro una coalizione? E badate bene che quando penso che si debba stare in una coalizione non credo che si debba stare lì a fare i cespugli, né penso che bisogna tornare o entrare nel Partito Democratico, io sono uscito dal PD nel 2019 con la massima convinzione e l'ultima cosa che penso di fare è di tornarci, né penso che il nostro ruolo debba essere appunto quello del cespuglio, della stampella, io penso che noi dobbiamo stare lì in modo molto competitivo, cioè cercando di portare gli equilibri della coalizione verso i nostri contenuti riformisti, anche lavorando con i tanti riformisti che stanno nel Partito Democratico e che soffrono a stare in questo Partito Democratico e parlo sia degli eletti ma anche degli elettori, penso a tutti gli elettori che hanno votato, che so, per Giorgio Gori, per Irene Tinagli, per Pina Picerno, per Stefano Bonaccini, per Antonio De Caro, sono tutte persone che certamente non sono dei radicali di sinistra ma che preferiscono stare in quel partito perché noi oggi non siamo abbastanza attrattivi, però io penso che facendo massa critica con loro i nostri contenuti e i loro potrebbero diventare molto più significativi dentro la coalizione di centrosinistra, oggi un Irene Tinagli, un Giorgio Gori nel centrosinistra sono delle mosche bianche, sono isolati, non riescono a portare avanti dei contenuti perché il loro partito va in un'altra direzione, ma se nella coalizione ci fossimo anche noi, io penso che un eventuale governatore, di centrosinistra, non potrebbe non tener conto della nostra visione e del nostro punto di vista, quindi quello che c'è da fare è prendere atto di come sono andate le cose alle europee, c'è da fare una profonda riflessione che è quella che stiamo facendo e una delle possibilità è che si decida di stare dentro una coalizione, di starci, come ho detto, in modo competitivo per provare a uscire dalla testimonianza e incidere davvero nella realtà. Io mi fermo qui, noi ci sentiamo domani. Avete ascoltato la versione di Ivan, un podcast di Ivan Scalfarotto ispirato dall'omonimo libro edito dalla nave di Teseo.